Direi proprio una riscrittura ma una rivisitazione, insomma Mario ha deciso di affrontare insieme a noi del NEST, del Napoli Est Teatro, questa esperienza magnifica di rileggere un Edoardo ambientandolo nei tempi nostri, no? No, facendo questa operazione la cosa più importante è che il Barragano, Antonio Barragano, che da testo ha 75 anni e qui ne ha 38, ovviamente già questa operazione, questo abbassamento dell'età comporta tutta una serie di modifiche nel testo che rendono, secondo noi a detta nostra e soprattutto di Mario, il testo molto più vivo e concreto rispetto insomma a quell'aspetto crepuscolare che aveva invece con un uomo così anziano. Ma soprattutto per noi del Napoli Est Teatro avere l'opportunità di lavorare con un grande maestro come Mario Martone in un tempo in cui i maestri...